Provincia 2.0 si inizia concretamente a lavorare ed il Presidente assegna a tutti i consiglieri delega di competenza. Federico Maio ricoprerà il ruolo di vice con delega ai trasporti, Edoardo Maiolatesi si occuperà di sport, giovani e bilancio, Fulvio Chilò seguirà le politiche riguardanti montagna, caccia e pesca, Giulio Lato Pazzo avrà la delega per la gestione emergenza epidemiologica da Covid-19, rapporti con Asle e salute, Gabriele Adilanzo seguirà le politiche riguardanti l'ambiente, Giulio Gazzola si occuperà di viabilità e lavori pubblici, Barbara Cozzi si occuperà di protezione civile, pari opportunità, Luisa Nasso avrà la delega politica e sociali e pubblica tutela, ed ancora Paolo Rizzo seguirà le politiche riguardanti pedemontana, ferrovia, personale, pianificazione territoriale e banca dati, Carlo Grosso avrà la delega alle politiche su istituzione, progetti europei, turismo e cultura sull'ambito territoriale Ato. Il presidente Emanuele Ramella Pralungo terrà invece nell'ambito delle sue competenze tutto quanto non è espressamente oggetto di deleghe, tra queste la gestione degli istituti scolastici superiori. Si inizia da subito quindi ad improntare un lavoro comune di collaborazione tra le varie parti politiche.